Dobbiamo quindi fare meglio dello scorso anno, la concorrenza secondo me quest'anno è superiore a quella dell'anno scorso, quindi è ancora più difficile. La squadra l'ho trovata bene, concentrati, determinati, dal mister a tutti i giocatori, quindi ho sensazioni positive. Giovannino? Giovannino è stato scelto perché oltre che essere stato un giocatore del Monza, Giovannino fa giocare bene le sue squadre, ha fatto giocare molto bene il Foggia, ha fatto giocare molto bene il Crotone, a parte vincere un campionato col Foggia e uno col Crotone e quindi tutti sanno che il presidente Berlusconi è sottoscritto, cercano di far coniugare le loro squadre oltre ai risultati anche il bel gioco.